Ciao a tutti, mi chiamo Silvia, frequento l'Università Liuc ormai da quattro anni. Sono iscritta al primo anno di laurea magistrale in Economia, Specializzazione, Amministrazione e Libera Professione. Perché hai scelto la Liuc? Ho scelto la Liuc perché è un'università innanzitutto vicino al territorio, fondata dall'Unione degli Industriali di Varese e offre proprio per questo tante opportunità a livello lavorativo. Inoltre abito a Buster Sizio e quindi mi è facile raggiungere in meno di dieci mesi. Perché ti sei iscritta al tuo corso di laurea? Iscrizione alla Facoltà di Economia maturata nel corso di una serie di decisioni nel corso degli anni di liceo. L'ho scelta perché offre molti sbocchi a livello lavorativo e anche perché mi interessavano le materie economiche. Cosa pensi di fare una volta laureata? Una volta laureata penso di fare la commercialista anche perché Liuc offre una convenzione con l'ordine dei commercialisti di Buster Sizio grazie alla quale scegliendo determinati esami c'è l'esenzione dalla prima prova scritta e mi consente di iniziare il tirocinio già nel secondo anno di laurea magistrale. Cosa pensi di fare una volta laureata? Penso di fare appunto la commercialista e di sfruttare questa opportunità che mi ha dato l'università. Grazie.